Torna il Ferragosto d'Italia 2016 e la sesta edizione si trarrà il 13, 14 e 15 agosto prossimi sulla litorale di Marina di Butera sulla spiaggia adiacente il Lido Panama Beach. L'evento gratuito più grande del sud Italia ha in serbo tante novità al fine di sorprendere come ogni anno le migliaia di giovani che trascorreranno la notte simbolo dell'estate sulla spiaggia di Marina di Butera. Tre giorni di manifestazioni, un vero e proprio festival della musica. La costa buterese merita una certa attenzione. Noi ci siamo riproposti anche perché sentiamo il dovere di dare delle opportunità a quei tanti turisti che sono nel nostro circondario. abbiamo il pieno dappertutto già nel mese d'agosto e credo che anche per questo evento che è un evento straordinario l'unico evento gratuito che esiste nel mezzogiorno dove ci saranno DJ famosissimi ci saranno tantissimi DJ locali che si cimenteranno per la prima volta ebbene anche dargli l'opportunità di farsi apprezzare, di farsi valere. L'obiettivo prioritario è quello di creare una condizione positiva per il nostro territorio cercare di valorizzare questa parte, questa fascia costiera per consentire a tutti i nostri abitanti, tutti i cittadini dei paesi limitrofi ma prevalentemente a tutti quelli che vengono una volta all'anno di offrire loro una spiaggia bellissima, accogliente, positiva, poter trascorrere delle vacanze. Lo scopo è di natura turistica ma vorremmo che fosse non soltanto turistico vorremmo che fosse una condizione più continuativa nel tempo che desse più sviluppo al nostro territorio e che potesse creare veramente occasioni per tanti giovani. L'iniziativa è della associazione culturale Suoni e Visioni da sempre organizzatrice dell'intero evento in collaborazione tra gli altri con Radio Geo Express. Prevista la presenza di artisti di calibro internazionale dei quali arriva Star e dei giovani talenti dei Promised Land un duo eclettico attivo dal 2003 ma oramai di fama internazionale che sta scalando velocemente le classifiche Dance ed Electro House d'Europa. Quest'anno rispetto all'anno scorso abbiamo ampliato il nostro programma anziché due giornate diventano tre tre giornate dedicate tutte e tre alla musica dance con le tre sfaccettature diverse la prima con gruppi live sempre dance oriented la seconda con artisti commerciali la terza con artisti più house. Quest'anno come ogni anno comunque avremo degli ospiti internazionali ma quest'anno ci siamo veramente superati avremo un ospite realmente internazionale che fa tour in tutto il mondo a fare a tappa anche in questo territorio. Speriamo che vengano numerosi come tutti gli anni d'altra parte anche che insomma come sempre finora abbiamo anche avuto la fortuna di non avere mai incidenti o insomma episodi negativi e per cui confidiamo nei nostri giovani perché sono responsabili oltre che vengono a divertirsi in modo sano. Dopo Gela anche a Niscemi è stata istituita una stanza tutta per sé l'inaugurazione si svolta oggi nella caserma dei Carabinieri in piazza Martiri di Nasseria l'iniziativa rientra nell'ambito di un progetto promosso dalla Soloptimist Club di Niscemi dopo la stipula di un protocollo d'intesa con il comando generale dell'arma dei Carabinieri sottoscritto dal Soloptimist Club nazionale l'aula servirà per accogliere in un ambiente idoneo le donne vittime di violenza fisiche e psicologiche che trovano il coraggio di denunciare un arredamento sobrio ma confortevole nella scelta di mobili, colori, illuminazione e complementi di arredo. Io ritengo che sia veramente importante che tutte le donne anche in una città come Niscemi possano avere la possibilità di ricevere l'adeguata accoglienza quando devono appunto denunciare una violenza la qualunque cosa che li traumatizzi per me è stato ed è un onore che questo si sia potuto realizzare. Si sono mai verificate delle situazioni in cui delle donne si sono avvicinate a voi perché hanno vissuto delle esperienze difficili in famiglia? Beh io insegno al liceo e proprio quest'anno verso la fine dell'anno scolastico io avevo intuito che c'era qualcosa che non andava in una mia alunna e poi parlandone ho scoperto che sia la madre che lei subivano delle violenze da parte del genitore e quindi io ho cercato ancora la stanza non era pronta però io già ho cercato di fare qualche cosa. Questo progetto nasce da un'idea del presidente del club di Torino diventata poi presidente nazionale e che vuole dare una possibilità alle donne che purtroppo sono vittime di violenza di avere un ambiente accogliente, sobrio è chiaro che la sobrietà o la confortevolezza di una stanza non leniscono il donore però possono rendere meno traumatico l'evento denuncia questo progetto ha avuto veramente un successo insperato e inaspettato se si pensa che in poco più di sette mesi ne sono state realizzate di circa una ventina e con un pizzico di orgoglio da vicepresidente ma da vicepresidente siciliana devo dire che il contributo maggiore è stato dato proprio dalla mia regione dalla Sicilia ne sono state realizzate ben sei e ce ne sono altre ancora in itinere e in corso di programmazione quindi davvero un successo con un'unica speranza che queste stanze siano non utilizzate ma quantomeno utilizzate il meno possibile stanare il dato sommerso di questi reati all'interno dei nuclei familiari da dove quasi sempre provengono le violenze è molto complicato che cosa si può fare forse le associazioni, gli insegnanti, le scuole possono arrivare prima delle istituzioni Beh, intanto bisogna salutare con grande soddisfazione e grande piacere questa sintesi fra pubblico e privato fra l'associazionismo il volontariato e l'attività istituzionale l'attività pubblica perché questi sono i momenti in cui si danno risposte concrete a quella ricerca di legalità anche all'interno delle famiglie dove è sicuramente più difficile rompere il muro di omertà perché è dettato da una serie di circostanze evidenti di carattere assolutamente personale molto difficili da affrontare perché c'è una famiglia ci sono sentimenti ci sono figli e quindi è molto difficile evidentemente per una donna che subisce violenze o maltrattamenti all'interno di un contesto familiare uscire e poter far valere i propri diritti però queste sono le occasioni questi sono i luoghi fondamentali in cui si concilia appunto l'interesse del singolo con l'interesse del bene comune e vanno incoraggiate vanno rafforzate e speriamo che da questa sala da questi incontri possano generare fattori di sicuramente di maggiore legalità anche all'interno delle famiglie che percentuale abbiamo sui dati relativi alle denunce con riguardo alle denunce abbiamo circa un numero sicuramente sempre limitato rispetto a quello che è la realtà però devo dire con un certo anche in modo confortante che negli ultimi anni l'attenzione è stata della procura di chi mi ha preceduto molto particolare molto attenta su questa tematica e le denunzie sono in crescita le denunzie per maltrattamenti in famiglia o per reati connessi alla vicende a violenza o minacce all'interno del contesto familiare sono assolutamente in crescita rispetto a cinque anni fa vuol dire che la strada la strada dell'informazione della conoscenza il superamento delle barriere fra virgolette mi sia consentito dire dell'ignoranza o della connivenza dettata da determinati fattori sta per essere superata e questo è molto molto importante informare ha una funzione determinante perché da oggi le donne le vittime i minori di Niscemi sanno che qui c'è la disponibilità di un'aula per essere ascoltati il tavolo aree verdi e mobilità urbana di Cantiere Gela propone un'iniziativa molto virtuosa che riguarda la pulizia di alcuni giardini che insistono nella zona di Capo Soprano qui siamo in via Morselli nello specifico nel giardino Margherita qual è la vostra proposta e soprattutto come pensate di coinvolgere tutti i cittadini che volessero Cantiere Gela ha diversi mesi impegnato in diverse iniziative finalizzate a sensibilizzare la cittadinanza sulle principali problematiche della città stessa il nostro tavolo tematico si occupa di aree verdi e ha lanciato l'iniziativa di proporre l'amministratore un regolamento per la congestione delle aree verdi con i privati a tal fine abbiamo lanciato come iniziativa anzi come proposta quella di sperimentare in via Morselli in piccolo questa cogestione quindi noi oggi affiggeremo le locandine per chiedere alla cittadinanza di dare la disponibilità indicando anche l'area che loro vorrebbero adottare sostanzialmente successivamente noi a settembre ci auguriamo di poter indicare questi nominativi all'amministrazione così da consentirle di poter predisporre gli atti amministrativi affini di poter congestire queste aree quindi facendo leva sul senso civico della cittadinanza l'obiettivo sarebbe quello di tenere nel massimo decoro delle piccole aree verdi sì l'idea è quella da un lato di manutendere queste aree che purtroppo a causa anche dei problemi di gestione non sono in uno stato ottimale dall'altro lato l'idea è quella di far riappropriare questi spazi alla cittadinanza la gente deve sentire questi spazi come propri quindi non solo con il proprio contributo può aiutare a manutendere ma anche diciamo possono essere i nostri occhi vigili per la gestione di queste zone ricordiamo la mail di contatto sì la mail di contatto è candiere tavoloverde chiocciolagmail.com l'iniziativa è più che altro mirata a dare a Gela ai gelesi essenzialmente un esempio di che tanti spazi verdi abbandonati per quando per quanto mi riguarda sono ormai brutti a guardare noi vogliamo dare un esempio perché venga dato venga sistemato questo verde che può diventare anche una zona di aggregazione anche per i ragazzi per tutti quanti e dopodiché speriamo che anche gli altri spazi verdi di Gela possano essere utilizzati e gestiti da queste persone per farli diventare belli come spero diventerà questa via Morsella dunque intende dire anche di altri quartieri ma sicuramente per tutto Gela noi abbiamo dato una proposta al comune di Gela per dire che è un regolamento perché possa dare poi in gestione queste aree verdi all'interno del comune di Gela il nostro scopo è quello di dire che Gela era bella e noi vogliamo che Gela diventa ancora più bella noi vogliamo una città bella pulita perché possa essere di ricamo a tutti i turisti dell'Italia e dell'Europa protestano i residenti di Contrada Tenutella a Marina di Butera da diversi giorni infatti la zona è a secco e i disagi per un villaggio vacanza con i suoi 700 ospiti un B&B e per decine di residenze estive con centinaia di persone sono notevoli e gravi c'è anche il problema della viabilità con una gara d'appalto per il rifacimento completo della strada principale della illuminazione pubblica espletata un anno fa aggiudicata da molti mesi ma ancora ferma esasperati i residenti ai nostri microfoni il comune di Butera ha chiamato questa zona Marina di Butera perché prevedeva in quest'area uno sviluppo turistico ma si può fare sviluppo turistico senza acqua senza luce e con le strade precarie l'acqua manca da noi da dieci giorni e le interruzioni si proseguono nell'arco di due mesi se ne sono avuti almeno cinque o sei chiamare chiamare qualcuno è impossibile l'Enel sta per staccare la luce per tutta la giornata e non si capisce perché tutta la giornata lo potrebbero fare anche in due giorni però staccherà la luce quindi saremo senza acqua senza luce e senza strade perché le strade la strada che avrebbero dovuto rifare l'appalto è stato già bandito assegnato da un anno ma tutto rimane fermo bene i miei figli dopo il bandanno che venivano da fuori dieci giorni senza lavare la faccia io me la prendo il santo petro e gli ho sacchato il busto d'acqua ed è la verità a stirare ma il cugnato mi sono fustito con la pasta se la faccio una doccia a stirare con la pasta la triste come si può andare avanti così non si può siamo venuti dalla Francia domenica mattina siamo arrivati qua inutilmente perché non c'era acqua non c'era luce la strada tutta bucata cosa facciamo qua dobbiamo tornare da dove siamo venuti io gestisco qui un B&B giustamente quando il sindaco va in televisione a dire che Butera ha vocazione turistica a me viene da sorridere perché qui non si riesce a fare niente non turismo ma nemmeno a poterci stare come persona fisica come famiglia manca l'acqua manca luce spesso e volentieri io non ho capito perché solo qui la luce almeno una o due volte al mese deve essere interrotta per manutenzione perché non la definiscono completamente non l'ho capito diciamo che diventa impossibile così gestire un B&B abitarci perciò come dobbiamo fare che il sindaco provveda in una maniera definitiva a tutte queste esigenze che abbiamo sit-in questa mattina gela davanti il palazzo di vetro della raffineria da parte di una ventina di lavoratori della Sud Elettra le maestranze hanno inscenato una protesta contro la decisione dell'azienda di trasferire in Francia 7 dei 65 dipendenti attualmente in organico senza però aver chiesto un parere ai sindacati e avviare così la fase contrattuale L'incontro previsto per questa mattina in prefettura con l'impresa è saltato perché la dirigenza aziendale ieri sera con un telegram ha fatto sapere che non sarebbe stata presente Il problema è che inizialmente credevamo che era una banalità e un'incomprensione da parte dell'azienda nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori sta diventando quasi un caso sindacale a livello nazionale Ha un mandato in trasferta da parte dell'azienda sui lavoratori che accettavano di andare in trasferta questo deve essere ribadito semplicemente a dei chiarimenti relativamente alla contrattazione sulla trasferta l'azienda in maniera unilaterale senza neanche concertare con il sindacato i dubbi che c'erano ovviamente sul contratto di trasferta in via dei provvedimenti disciplinari che si parla di assenza ingiustificata una cosa che va fuori ogni logica fuori ogni regola di buon senso e soprattutto non è sinonimo di buone relazioni sindacali siamo arrivati al punto che addirittura le istituzioni in questo caso su eccellenza il prefetto che abbiamo mediato problematiche molto ma molto più serie questi qua snobbano pure l'incontro infatti noi adesso stiamo per partire e ci vediamo con il prefetto sono semplicemente noi le organizzazioni sindacali e le confederazioni di CGL e Cisla i lavoratori hanno dato disponibilità dal primo momento visto le situazioni che ci sono sul territorio vengono sapevoli che quelle condizioni dettate dall'azienda non sono condizioni contrattuali noi avevamo chiesto solo delle delucitazioni in merito a queste condizioni però la disponibilità dei lavoratori ad andare in trasferta è come dire certa e quindi i lavoratori si sono visti recapitare un biglietto di aereo nella stessa giornata in cui alcuni di essi lavoravano quindi finivano di lavorare dovevano prendere l'aereo per andare a Dunkerque in Francia dove i confini del Berge dove c'era questa attività Chiedono solo un'offerta libera da parte dei commercianti loro sono gli ex detenuti che fanno parte della situazione fondata anni addietro da Rocco Bassora da diverse settimane sono impegnati nella bonifica del Giardino dell'Acropoli nei pressi del Museo Regionale grazie al Lions Club Gela che ha ricevuto dal Comune l'affidamento del Giardino una forma di riscatto sociale per chi negli anni si è macchiato di diversi reati e ha scontato i propri conti con la giustizia adesso come dicevamo hanno avuto un'altra idea ci rivolgiamo ai commercianti per darci una mano d'aiuto diciamo a noi a pulire la vetrina e noi chiediamo solo un'offerta quello che ci vogliono ci danno e sappiamo che abbiamo le capacità di poterlo fare della massima umiltà perché noi cerchiamo lavoro e vogliamo vivere onestamente e se ci chiedo di avere questa possibilità di pulirli e voi da qualche mese a questa parte invece state ripulendo il piazzale che sorge dinanzi al museo archeologico con la collaborazione del Lions si ci ho pulendo questa villetta ma me la sono presa al cuore però è troppo sporca non solo devo togliere l'immondizia che c'è ma ci sono anche dei piazzali il misto buttato e non è giusto abbandonare a se stessa una villa bella come questa che si viene pulita e viene messa in ordine è una bella villa per poterci passare anche delle serate dunque potrebbe essere valorizzata come ci mancherebbe altro io in futuro in questa villa dei progetti con la speranza che mi daranno tutti i permessi e mi daranno il consenso di poterlo fare partirà a Gela da lunedì 8 agosto prossimo il nuovo piano per la raccolta differenziata che prevede la raccolta del vetro con il sistema del porta a porta sono infatti in distribuzione dei secchi verdi per ogni famiglia per il conferimento del vetro che verrà poi ritirato ogni venerdì inoltre all'attuale calendario è stato aggiunto un altro giorno per la raccolta dell'organico quindi potrà essere conferita il lunedì il mercoledì il venerdì e il sabato dalle 22 alle 5 del mattino il secco residuale non riciclabile dovrà essere depositato in un sacco trasparente il martedì carte e cartoni il mercoledì plastica e metallo in un solo sacchetto tutti i giovedì a partire da lunedì parte inoltre una campagna di sensibilizzazione ci saranno in città tre infopoint il personale addetto fornirà ai cittadini tutte le informazioni utili per effettuare la raccolta differenziata seguendo le regole che questa mattina sono state illustrate nel corso di una conferenza stampa dal sindaco Domenico Messinese e dal suo vice condelega all'ambiente Simone Siciliano gli infopoint saranno collocati in piazza in via Rio de Janeiro e a Manfria rimane in ogni caso a disposizione dei cittadini dalle 8 alle 17 il centro di raccolta comunale situato sulla strada statale 117 bis Gela Catania tre squadre di vigili urbani e del settore ambiente vigileranno sul territorio affinché le regole vengano rispettate ai trasgressori saranno elevate multe da 125 euro l'iniziativa diciamo del cambio di calendario è volta anzitutto a rimuovere dalle strade pubbliche i carrellati per la raccolta del vetro e dei metalli quindi è stato distribuito o è in fase di distribuzione ad ogni cittadino il secchio per la pattomiera per il vetro è una pattomiera con un meccanismo di antirandaggismo per evitare che il vetro venga disperso per strada mentre i metalli verranno accorpati assieme alla plastica e conferiti nel classico sacco giallo che ora è un pochettino più spesso e servirà appunto per il multimateriale leggero plastica e metalli ci sono dei numeri riportati sulle brochure c'è sia il numero della Tecra ma anche il numero del comune perché è ovvio che questa amministrazione non vuole demandare alla Tecra il controllo totale di tutto quello che avviene sul territorio ci sarà un nostro duplice controllo su eventuali anomalie segnalate stiamo facendo una campagna informativa per far comprendere come fare la raccolta indifferenziata ma soprattutto cosa vuol dire abbandonare i rifiuti il problema fondamentale non è quello di prendere necessariamente delle multe che forse potranno avere degli effetti sicuramente chi è che si preoccupa di essere beccato per una questione economica ma credo che in gioco c'è qualcosa di più qua c'è la dignità di ognuno di noi di vivere in un ambiente pulito forse è la cosa più difficile che può sembrare ma credo che sia la cosa più logica è quella invece di cambiare la nostra mentalità chiediamo massima collaborazione è chiaro che ci sono delle nuove regole che devono essere rispettate riunione ieri sulla vicenda Porto fortemente voluta dal gruppo di lavoro Porto di Gela che da diverso tempo segue l'iter che dovrebbe portare l'infrastruttura locale ad una sufficiente funzionalità il tempo scorre inesorabile le attività che orbitano intorno al porto sono ormai al collasso è emerso fuori che praticamente il sindaco ha detto che non c'è nessun progetto di project financing in essere quindi ufficialmente nemmeno esiste è stata solo una proposta fatta lì così ma senza nessun nessun diciamo nessun progetto da vagliare quindi diciamo che Siciliano ha lanciato sui Max Media questa proposta non so da quale pulpito è uscita fuori non siamo riusciti a capirlo non avevamo timore per un investitore che vorrebbe investire a Gela anzi che benvengano gli investitori a Gela ma per cose un po' più concrete cose più serie cioè non parliamo di un porto come quello nostro che da due anni che si lavora per ottenere dei finanziamenti per ottenere un progetto e oggi che è tutto pronto arrivare a un project financing a fare che cosa non capiamo qual è il nesso di questo project financing per ottenere cosa una volta che abbiamo già i fondi reperiti da parte della compensazione il progetto già esecutivo quindi non capiamo questo project financing a che cosa serve che benvenga ma che vada che so a fianco al porto a farsi un nuovo porto e quindi presentare un progetto serio valido dove verrebbe vagliato sul progetto sul tavolo di lavoro al comune e quindi capire se può andare avanti l'iter per quando riguarda il porto di Gela è un po' ancora fermo perché il 28 giugno c'è stata l'ultima riunione a Palermo e dal 28 giugno ad oggi non è ancora arrivata la lettera d'intesa quella che doveva arrivare dopo due tre giorni massimo quindi sono passati circa 45 giorni solo per avere una lettera d'intesa quindi ancora non sappiamo esattamente i tempi speriamo che siano brevi come ci ha annunciato il sindaco quindi si metterà in moto immediatamente per riuscire a prelevare questa lettera d'intesa che è ferma a Palermo quindi oggi l'amministrazione comunale si deve solo impegnare ad accelerare semplicemente i tempi per quanto riguarda questa lettera d'intesa fra Comune Regione e Eni si è svolto ieri su richiesta della Filcams CGL un incontro con il sindaco di Gela Domenico Messinese per affrontare le problematiche delle lavoratrici della società che gestisce il servizio delle pulizie di tutti gli immobili del Comune la società il cui contratto scadrà domani scrive in una nota inviata alla stampa Emanuele Scicolone segretario generale Filcams CGL ha comunicato su indicazione del Comune che avrà una proroga del servizio con una riduzione di due giorni la settimana il sindaco si è impegnato su richiesta della Filcams CGL a fare ritirare l'atto e incontrerà la ditta lunedì al fine di comunicare che il servizio non sarà modificato la Filcams CGL ha presentato anche le questioni che già dal mese di aprile costringono i lavoratori che svolgono il servizio di pulizie cimiteriali e tumulazione a cui sono state ridotte le ore lavorative da 3 a 1 scelta che sarebbe dovuta essere momentanea in attesa del nuovo bando producendo gravissimi problemi di sopravvivenza anche per questa situazione scrive ancora Emanuele Scicolone il sindaco ha promesso di intervenire personalmente per capire le ragioni che hanno spinto il dirigente a lavorare sul nuovo bando di gara che non è stato ancora completato e darà una risposta riconvocando la riunione entro la fine di agosto va precisato leggiamo ancora nel documento che parliamo di lavoratrice e lavoratori che percepiscono meno di 500 euro la CGL prende atto degli impegni assunti dal sindaco e vigilerà finché logiche meramente economiche non prevalgano sulle legittime esigenze di sopravvivenza dei lavoratori in caso contrario la CGL metterà in atto tutte le iniziative più opportune per tutelare adeguatamente i legittimi diritti dei lavoratori il sindacato dalla confederazione alle categorie non entra nel merito dei rapporti tra potere politico e potere amministrativo e cioè tra sindaco e dirigente della ripartizione una cosa è chiara la questione da noi sollevata va risolta sia per i lavoratori che per la collettività conclude il dirigente sindacale delle sigle Filcams CGL che per la collettività che per la collettività che per la collettività che per la collettività che per la collettività